Ciao ragazze e ciao ragazzi bentornati nel mio canale, oggi un nuovo video questo è il consulato appuntamento quasi ormai mensile dello spacchettamento Avon in questo caso spacchetto il pacco della campagna 9 nel video precedente vi avevo detto che non sapevo se avrei rifatto un ordine per il semplice fatto perché sarei andata in ferie però ho ricevuto tantissime ordinanze ringrazio anche voi perché ci sono tante delle mie iscritte che mi hanno fatto gli ordini e quindi le ringrazio veramente tanto, alle quali mando un bacio ve l'avrò già consegnato quando vedete questo video però vi ringrazio anche pubblicamente e quindi insomma ho deciso di spacchettare immediatamente subito proprio perché devo consegnare la roba prima di andare in ferie perché altrimenti è un macello allora vi faccio solo vedere che ho ricevuto 10 e dico ben 10 di questi bubble bath da OnListro ne ho ricevuti di vari gusti, in particolar modo ho ricevuto melograno e peonia il soft pink è quello al giglio bianco e quello al... aspettate lo prendo, faccio prima questo ha il tè bianco e gelsomino insomma ne ho ricevuti ben 10, ce l'ho tutti qua sparsi tra i piedi magari vi ho fatto il close up e ve l'ho già messo, quindi l'avrete già visto però non ve lo so tirare fuori tutti altrimenti mi viene un video stra mega lungo ho ricevuto poi questi due shampoo qua dell'Advanced Technique, questo è il classic 2 in 1 ed è lo shampoo antiforfora valido per tutti i tipi di capelli sono shampoo da 400 ml, erano in offerta mi sembra 3,95 euro e roba del genere la mia cliente le aveva già provati, ci si era trovata bene, me ne ha ordinati appunto due approfittando delle offerte, approfittando anche che io partirò per un mese approfittando delle varie offerte, le mie clienti si sono accaparrate un po' di deteranti roll on allora mi è arrivato il long duty 48 ore protection fresh poi questo qua acqua, che è quello da uomo dovrebbe essere poi mi è arrivato il long duty 48 ore questo qua da uomo, quindi men's fresh e questo qui che è il black sweat, è la fragranza veramente classica di Anne altra offerta delle quali le mie clienti non hanno potuto rinunciare è la crema della Nutra Effect, questa qua Radiance da giorno SPF 20 allora questa qui ragazzi, la clienti me l'ha acquistata perché c'era un'offerta se ne acquistavi una a 7,95 euro, la crema è questa, vediamo se la vedete ce l'ho non ci sparata, ok ne potevo acquistare un'altra a 3,50 euro o 3,95 euro, adesso non me ne ricordo quindi sempre in procinta appunto che io parto per l'estate ne ha approfittato e ne ha fatto ben scorta sono poi arrivate ragazzi queste due creme qua, che sono della Avon Care Gentle Aloe Light Cream che è una crema che contiene aloe vera e burro di karité e vitamina E ed è una crema adatta sia per faccia, mani e corpo la mia cliente l'aveva presa l'altra volta, gli era piaciuto tantissimo me l'ha riacquistata perché appunto ci si è trovata stra mega bene quindi presumo che sia buona, io non l'ho mai provata però visto che lei l'ha riacquistata, io mi fido certamente di ciò che mi dicono i miei clienti vi mostro adesso alcuni prodottini che mi sono arrivati della nuova linea dell'Advanced Technique che si chiama Nutrify Complex allora mi è arrivato uno shampoo da 400 ml questo c'è scritto Supreme Oils poi mi è arrivato della stessa linea la maschera il trattamento maschera e poi per me mi sono ordinata due olio sapete che io adoro moltissimo l'olio d'Argan del Marocco però siccome ho terminato la scorta due me le sono portate in vacanza quindi ho detto quando rientro a casa poi se no non ce ne ho più e mi fatele sparare mi sono preso appunto questi due per me e sono veramente stra curiosa di provarlo e quindi poi vi farò sapere come mi ci sono trovata approfittando di un'altra offerta dove c'erano le creme corpo solamente a 3,50 euro le mie clienti ovviamente ne hanno fatto scorta e mi hanno preso allora Lavon Sexy poi mi è arrivato due questa è la Beautiful Butterfly e una che è appunto Lavon Flair queste venivano, vi ricordo, a 3,50 euro sono creme da 150 ml sono della stessa identica profumazione del profumo e queste qui sono tutti buone perché ho provato tutti i profumi e sono veramente ottime ottime, ottime, ottime idratano e soprattutto fanno sentire e rendono la pelle molto 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 profumata sempre parlando di profumi mi è arrivato l'acqua questo qua da Uomo che è uno de toilette in vaporizzatore è da Uomo e questo è da, se non mi sbaglio 75 ml questo è veramente buono l'aveva preso Gabriele molto 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 buono poi mi è arrivato il Lavon Ultra Sexy Pink e questo qui ragazze è questo profumo qua ve lo volevo far vedere il packaging che è molto 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 carino come packaging vedete qua con il fiocchetto ultra wow e questo era un'offerta praticamente accostando questo si aveva si poteva avere un prodotto aggiuntivo o due o tre a un euro a prodotto la mia cliente ne ha approfittato e ha preso il burro labbra della Avon Care Intensive Relief quindi insomma era preso molto bene questo qui come offerta mi sono arrivati poi due questi qua del Beautiful Butterfly e questo profumo è veramente buonissimo cioè top assoluto e uno mi è arrivato Lavon Luck che però ovviamente non ve lo posso aprire perché come vedete è incarcato e io non ce l'ho e quindi non ve lo posso far vedere se caso mai se trovo una cosa ve la metto qui da qualche parte approfittando sempre dell'offerta mi sono arrivati due scrub per i piedi allora questo è all'Ananas che la profumazione è buonissima io ho la crema per i piedi ed è veramente ottimo mentre questo che è della sempre Foodworks della linea Beautiful è quella ai sali marini anche questo io l'avevo preso mi sembra l'anno scorso ed è veramente il top sto sudando sto bollendo aiuto sempre per i piedi e sempre della Foodworks mi sono arrivate queste due dove uno è una crema è una crema rigenerante per la pianta dei piedi e qui infatti se vedete c'è la foto della scarpa con il tacco quindi secondo me serve proprio per quella e poi mi è arrivato un balsamo riparatore nutriente per i piedi quindi una classicissima crema per i piedi poi mi sono arrivati due smalti e mi è arrivato l'orange sun che sono le colorazioni nuove della Nellware Pro Plus che è questo rosso aranciato molto 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 bello è un color corallo diciamo così e poi mi è arrivato l'ocean blue che è questo color celestino tiffany molto 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 carino scusatevi ho spappolato un po' la confezione ma i dettagli mi è arrivato poi un tempera matisse il classicissimo tempera matisse di Avon un fondotinta della Color Trend questo è nella colorazione medium eccola qua poi un Avon Incandescence un profumino e questo è il profumino roll on che mi sembra veniva 2 euro e 50 o 3 euro insomma veniva una vischerata e questo è quello che ha il rollino che si può dare tranquillamente così poi mi è arrivato una matisse che è la nuova glimmer stick diamond con questo packaging qua stupendo lo vediate lo vedrete sicuramente nel close up e come matisse ragazzi è questo fucsia il colore si chiama proprio fucsia fan e siccome l'ho presa per me ve la swatcho anche è questo fucsia qua cioè bellissimo stupendo io amante del rosa non avevo una matita rosa da utilizzare all'interno dell'occhio tragedia tragedia poi mi è arrivata una glimmer stick quelle normali nella colorazione black it's black quindi una normalissima matita nera mi hanno poi mandato il nuovo catalogo casa questo qua che va dalla vediamo se c'è scritto dalla campagna 12 alla campagna 1 quindi ancora per mostrare veloce il tempo mi sono arrivati dei campioncini del profumo che per sieve for air che è il profumo il classico appunto profumo per sieve poi mi è arrivato il catalogo della campagna 12 in anteprima e vi faccio vedere che ci sono i deodoranti l'on a solamente 1,50 euro quindi sicuramente un'offerta da non perdere mi è poi arrivato ragazzi questo dopo barba qua è un gel da radiatura della Avon Man classicissimo da 100 ml una mia cliente mi ha preso tutta la linea qua della Avon Naturals Herbal e mi ha preso allora il detergente per il viso questo è da ve lo dico subito 100 ml il tonico che è sempre da 100 ml e poi per finire la crema viso questa qua che ha lechinea e tè bianco ed è una crema per il viso anti rughe quindi questo set ragazzi gli è venuto tipo neanche 10 euro sotto questi prodotti quindi un'offerta veramente strafavolosa mi è poi arrivato questo deterante da uomo dell'individual blue che era quello del programma fedeltà della campagna precedente e poi mi è arrivato questo spray corpo alta verde verbena da 100 ml della Avon Naturals mi è arrivato il mio matissimo make up fixer che sapete lo adoro l'ho terminato l'avrete visto nel video dei prodotti finiti di make up vi invito ad andare a vedere perché trovate dei prodotti veramente interessanti e l'ho riacquistato per portarmelo in vacanza perché non ne potrei assolutamente fare a meno mi è poi arrivato questa schiuma normale per capelli sempre dell'advance technique è una spuma volume e boccoli quindi una crema per chi ha i capelli ricci poi passiamo alla bisotteria si non è ancora finito poi passiamo alla bisotteria mi è arrivato gli orecchini caterina che sono questi orecchini qua spero di riuscire a farveli vedere si che sono argentati con le pietre viola molto carine questi stavano in offerta però non mi ricordo assolutamente a quanto quindi mi spiace dirvelo vi rimando sotto nell'info box è arrivato il the asia gift set che è un set composto da una collana di questi colori bellissimi mamma non si vede niente queste luci vedete sono un blu e un verde e ha gli orecchini abbinati vi lascio la foto magari qui per farvi vedere come vi è indossata perché è molto 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 bello mi è poi arrivato il men's rugent interchangeable glossiano watch set quindi un orologio da uomo che è veramente bello che ha i laccini che si cambiano eccolo qua questo è l'orologio da uomo guardate quanto è bello e ha il laccino nero e giallo tutto nero oppure color militare verde molto molto bello se devo essere sincera ottima ottima scelta del mio cliente poi mi è arrivato una mutanda e questa qui è il lace brief che è una normalissima mutanda in color lilla con i fianchi alti ha un trocchettino qua insomma una mutanda veramente classica tre mascara dell'avon super shock nella colorazione black che sono quelli che hanno acquistato le mie clienti che partecipano al programma fedeltà poi mi è arrivato questa che è la super shock che è la matita che stavo aspettando dalla campagna scorsa che è quella nella colorazione seladon e mint breeze eccola qua i colori sono appunto un verde minta e un verde scuro molto 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 belli poi mi è arrivato un fondotinta sempre il solito Lady Delita Flawless il fondotinta quello tre in uno sempre nella colorazione pur beige poi mi è arrivato della A New Clinical questo che è un roll on che serve per minimizzare le occhiaie un prodotto molto valido l'ha presa la mia migliore amica fra l'altro quindi poi gli chiederò come poi scusatemi mi è arrivato questo mattara della color trend che si chiama comb it nella colorazione black un rossetto color trend nella colorazione beige star che non riesco a capire che colorazione sia comunque va bene poi dicevo mi è arrivato questo valentino qua che c'è scritto appunto tieniti forte ti portano lontano i premi per il passaggio di livello quindi da junior argento a da junior da junior argento a junior oro vince l'ororoso carpita quindi ho vinto l'ororoso carpita poi mi sono arrivati ovviamente gli 8550 cataloghi di campagna 11 ok perfetto e il pacchetto è terminato bene ragazzi con questo lo spacchettamento è terminato un caldo pazzesco quindi adesso vi saluto vado a preparare i pacchettini per le consegne di domani un bacione e al prossimo video ciao grazie a tutti